Buona giornata e anche grazie di questo appuntamento quotidiano che ci riserviamo con la parola del Signore anche nell'incontro tra di noi. Ci hanno sempre insegnato da quando eravamo bambini che la Quaresima era anche il tempo per i sacrifici, dovevamo fare dei sacrifici, dei fioretti e offrirli al Signore come segno di unione alla Sua passione. Ci sono dei fioretti e dei sacrifici che decidiamo noi e hanno tutto il loro diritto di esistere e ci sono dei sacrifici invece che decide la vita. Credo che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di trovarsi in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. E forse sono proprio questi sacrifici che possono, come dice la preghiera che fa compagnia in questo mercoledì della seconda settimana di Quaresima, sostieni Signore la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Non tutte le opere che noi compiamo sono buone e questo la parola di Dio, la Sacra Scrittura ce lo insegna. Non tutto quello che noi pensiamo di donare a Dio necessariamente è per forza una buona opera perché la facciamo noi. Ma è Dio che accetta quell'opera come buona ed è Lui che ci conforta, come dice la preghiera, con il suo aiuto. E allora è bello che in questi giorni ci sosteniamo con la preghiera, con l'invocazione, con anche il farci sentire gli uni gli altri, il far sentire la vicinanza soprattutto alle persone che soffrono, che si trovano in una situazione anche fisica di più debolezza. Però mi piace pensare che tutta la Chiesa, tutti noi insieme, possiamo rendere un'opera buona questa situazione che stiamo vivendo. non perché lo sia in sé, la malattia, la sofferenza, la morte non sono mai buone, sono sempre delle lacerazioni che l'uomo vive, ma una situazione di emergenza e di dolore che nessuno di noi ha scelto e che nessuno di noi desidera, possono diventare con l'aiuto del Signore una possibilità, possibilità di pensare, una possibilità di riflettere, una possibilità di pregare, una possibilità di aprire il cuore per essere persone di carità, una possibilità per essere persone attente a chi sta peggio di noi. Il Vangelo di oggi ci pone davanti, sempre dal Vangelo di Matteo, è un episodio che conosciamo. La madre dei figli di Zebedeo, siamo al capitolo 20 del Vangelo di Matteo, si avvicina a Gesù e chiede per loro che possano sedere uno a destra e uno a sinistra quando Gesù sarà nel suo regno. La madre dei figli di Zebedeo ragiona terra a terra, speriamo che i miei figli abbiano un posto d'onore, Gesù che sta andando verso Gerusalemme ha altri criteri, ma anche gli altri dieci discepoli ragionano un po' alla vecchia, come a volte ragioniamo noi. Ed è bello che Gesù, in qualche modo, ci dica due cose semplici. La prima, che è quella di condividere un po' il suo calice e credo che questa espressione, in momenti di sofferenza che stiamo vivendo, sia vera. Le persone che soffrono condividono il calice della passione di Gesù. Ma la passione e la morte di Gesù non sono le ultime parole. Noi, anche in questi giorni di quaresima, una quaresima un po' forzata, aspettiamo la risurrezione. E la seconda cosa bella che Gesù ci mette davanti è perché lui sia venuto in questo mondo, non per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per la salvezza di tutti. Mi piace pensare che viviamo in questi giorni salvati. Dio in Gesù ci ha già salvati. La nostra vita è già risorta ed è per questo che sprigiona speranza ed è per questo che non pensa solo, come ha fatto la madre dei figli di Zebedeo, ai posti di questa terra. Ma è una speranza che è fondata nei cieli ed è una speranza che Gesù tiene viva. Che sia una buona giornata, un buon mercoledì, accompagnati da un Dio che ci ama sempre e in mille modi creativi ci fa sentire il suo conforto e la sua bontà. Grazie. Grazie.